salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo non è uno dei soliti video è solo una condivisione di un video che secondo me è spettacolare quindi merita tantissimo di essere visto per quello che l'ho voluto condividere perché si vede la catena di montaggio del mavic pro 2 zoom secondo me è una cosa spettacolare vedere come vengono assemblati sembra la catena di montaggio di una casa automobilistica veramente spettacolare quindi ci tenevo appunto a condividere con voi come lavora dj e poi non meravigliamoci se i drone dj sono il top cioè già da questo video si capisce veramente tutto quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e partiamo nella catena di montaggio del mavic pro 2 zoom ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.